Avete mai sentito parlare del Necronomicon, il celebre seppur fittizio testo di magia nera ideato e spesso citato dal nostro amatissimo signor Lovecraft? Io credo di sì. D'altronde non si può che rimanere sorpresi nel constatare quanto e come questo misterioso grimorio immaginario sia stato in grado di ispirare le più disparate forme d'espressione artistica, manifestandosi su carta, pellicola, musica e ovviamente, altrimenti non sarei qui a parlarvene, videogiochi. Insomma, che l'universo e i miti di Lovecraft ben si prestassero ad essere tramutati in videoludiche avventure già l'abbiamo dimostrato in passato, ma per meglio approfondire il concetto, questa volta vi voglio parlare di un'avventura grafica che del sopracitato Libro dei Morti fa la sua colonna portante. Sviluppato da Wanna Do Edition e pubblicato nel 2001 su PC e PlayStation, il suo titolo è Necronomicon, The Dawning of Darkness. Nel 1927 William H. Stanton, un ricco e colto fanciullo di Providence, Rhode Island, riceve l'inaspettata visita di Edgar Weecherly, suo amico e compagno di studi. Questo, in un impeto d'ansia e terrore, gli consegna un misterioso artefatto piramidale, la cui esistenza, e posizione, non dovrà per alcun motivo essere rivelata a nessuno. Preoccupato per la salute mentale del proprio collega, William si rivolge a un medico, il quale gli consiglia indirettamente di indagare sulle possibili cause del profondo turbamento del giovane Edgar. E qui cominciano le nostre peripezie. Necronomicon è un'avventura grafica in prima persona, che come i più attenti tra voi avranno notato, utilizza lo stesso motore grafico e interfaccia di numerosi altri titoli dello stesso genere sviluppati o pubblicati da Krio, Dreamcatcher e Wanna Do, primo fra tutti Dracula, The Last Sanctuary. In buona sostanza, un mutevole puntatore contestuale, situato al centro dello schermo, ci permetterà di muoverci ed interagire con l'ambiente circostante, il quale potrà essere liberamente osservato ruotando l'inquadratura a 360 gradi. Tramite la pressione del tasto destro del mouse, potremo accedere all'inventario, dove utilizzare gli oggetti ed esaminare i testi raccolti, e alla mappa, che in un semplice clic ci trasporterà istantaneamente in una delle location al momento visitabili. Le premesse per una buona avventura ci sono tutte, dunque chiavi in mano e partiamo! Le prime fasi di gioco, che ci vedranno protagonisti di una improvvisata indagine per le strade della desolata cittadina di Poutoxet, ci permetteranno sin da subito di fare la conoscenza del temibile nemico che ci accompagnerà per tutta la durata del nostro viaggio, il sistema di movimento. Questo, funzionante tramite un sistema di hotspot piuttosto classico nel genere, renderà ingiustamente complicata la navigazione degli ambienti. Sia perché gli spostamenti tra un nodo e l'altro avverranno in modo immediato, senza transizioni grafiche di sorta ad alleggerire l'altrimenti troppo improvviso cambio di prospettiva, sia perché le varie schermate si riveleranno troppo spesso incongruenti tra loro, impedendoci di trovare dei punti di riferimento fissi da sfruttare per orientarci. Un esempio, sono vicino alla chiesa, nessuno in vista. Clicco e... c'è un signore! Ma non c'era prima, l'avete visto? Guarda, torniamo anche indietro. Nessuno. Vado avanti. Non so se questo fosse un modo per rendere il tutto più terrificante, ma di certo aiuta a rendere l'esplorazione non esattamente comoda. Perdersi anche soltanto avviandosi per una lunga e dritta strada di paese sarà un fenomeno assai comune, e quando una funzione tanto fondamentale come il movimento risulta poco intuitiva, è difficile mantenere alta l'immersione del giocatore. Un vero peccato, considerato che le ambientazioni, seppur pre-renderizzate e vittime di una staticità quasi totale, sono state realizzate con una certa cura per il dettaglio, e ben si sposano con le atmosfere Lovecraftiane proposte, anche grazie all'utilizzo di una palette cromatica piuttosto fredda. Perfino la colonna sonora, comunque non particolarmente incisiva, preferisce farsi da parte per lasciare spazio a suoni e rumori che cercheranno in ogni modo di contribuire alla caratterizzazione dell'ambiente di gioco. Ma vabbè, inciampando a destra e a manca, dialogando con figuri dall'aspetto e modi non esattamente rassicuranti, ci ritroveremo ben presto a scoprire l'esistenza di antichi mali, ignoti culti astrali e di un certo libro magico i cui contenuti preferisco non riportare per fuggire alla pazzia. E quando le cose staranno davvero cominciando a farsi interessanti, soprattutto per un fan dello zio Lovecraft, saremo chiamati ad affrontare quanto di più adatto un gioco in cui è possibile perdere l'orientamento in una città illuminata dal sole potesse offrirci. Stretti e labirintici corridoi completamente dominati dall'oscurità. E non sto nemmeno esagerando, questa è la tipologia di illuminazione che ci ritroveremo a dover affrontare. Non solo il problema relativo al movimento continua ad esistere, ma non avendo idea di dove staremo andando a mettere i piedi... Esatto, gli sviluppatori hanno avuto la grande idea di traforare i pavimenti. Se non altro, a un certo punto del dungeon troveremo una lanterna che ci permette... Ok... La verità è che per quanto l'idea di affrontare l'oscurità in un luogo ostile, attorniati da suoni inquietanti, possa effettivamente risultare spaventosa sulla carta, ci renderemo ben presto conto che, fatta eccezione per le cadute nel vuoto, non c'è niente che possa davvero farci sentire minacciati. E sebbene il gioco si impegni a cercare di costruire una certa atmosfera, avanzare alla ceca cliccando a caso nella speranza di incappare in qualcosa di interagibile annienterà ogni possibilità di immersione, risultando frustrante, specialmente quando ci vedremo costretti a ricaricare in continuazione, a causa dell'ennesimo... Neppure i puzzle, apparentemente ben congeniati, riusciranno sempre a risultare soddisfacenti. Nella maggior parte dei casi, infatti, pur di comprenderne il significato e i requisiti di risoluzione, dovremo affrontare delle lunghe e complicate ricerche, impiegando interi minuti ad esaminare nel dettaglio antichi tomi, diari e polverosi manuali dal contenuto non sempre chiarissimo. La ricerca, come meccanica di gameplay, potrebbe anche risultare abbastanza interessante. Il problema consta nel fatto che non sempre sapremo di che tipo di informazioni avremo bisogno una volta raggiunto il rompicapo di turno. E, in tutta sincerità, l'idea di dover affrontare un vecchio archivio o un'intera biblioteca alla ricerca di indizi che potrebbero ipoteticamente aiutarci nella risoluzione dell'eventuale enigma contro il quale andremo a sbattere il muso nelle fasi successive non è proprio allettante. E anche posto di avere il documento necessario a portata di mano, è davvero difficile capire cosa l'enigma voglia da noi. Purtroppo, spesso e volentieri, ci ritroveremo a pestare i meccanismi a caso nella speranza che... Vedi? Nella speranza di risolverli a caso, cioè per disperazione. Uno prova, prova a caso, ecco, toh. Cos'è successo? Come ho fatto? Boh. Gli unici enigmi veramente interessanti, purtroppo incredibilmente sporadici, saranno quelli che richiederanno l'utilizzo della scatola dell'alchimista, una piccola sezione del nostro inventario, dove potremo trovare e combinare tra loro diverse tipologie di materiali, come indicato negli appositi manuali di alchimia. Non so davvero che dire. Necronomicon è un gioco che, nonostante tutto, dimostra di avere un certo potenziale, ma perfino le buone idee implementate finiscono per essere messe in ombra, in alcuni casi letteralmente, da una marea di difetti fondamentali. Primo fra tutti... Primo fra tutti la navigazione degli ambienti. Inoltre, il gioco è farcito di una serie di paradossali incongruenze e incostanze tecniche. A voci e scene filmate ai limiti dell'imbarazzante, seguono discreti doppiaggi e segmenti animati con una certa cura. La colonna sonora fa la timida per tutto il gioco e poi esplode in ritmi tecno nelle sequenze finali. Niente potrà farci del male nelle profondità della terra, a contatto con demoni e mostruosità varie, ma potremmo essere annientati in un colpo da... Il protagonista, un uomo pavido e timoroso perfino di rivolgere la parola a una vecchia, spara e uccide a sangue freddo un essere umano senza battere ciglio. E dopo aver affrontato gli intricati corridoi al buio e aver scoperto che non ci piace, il gioco ci butta addosso altri labirinti, ancora più contorti e molti dei quali da percorrere addirittura in una serratissima lotta contro il tempo. Neppure l'intreccio narrativo, che comincia in modo tutto sommato abbastanza intrigante, riesce a mantenere alta l'attenzione del giocatore. Se l'intento degli sviluppatori era quello di sfruttare il libro dei morti come fulcro, attorno al quale costruire una trama che includesse alcuni dei più famosi miti ideati da Lovecraft, non possiamo certo negare che l'idea fosse pregevole, ma purtroppo il risultato finale non è dei migliori. E l'impressione è quella che anche concetti familiari agli amanti dei racconti, riproposti tra l'altro abbastanza fedelmente, come ad esempio i cervelli parlanti di The Whisperer in Darkness, siano stati inseriti per il solo gusto di fare l'occhiolino ai fan, in quanto non sembrano avere il minimo peso nello svolgimento della vicenda e anzi rischiano di allontanare l'attenzione del giocatore dalla trama principale, che già di per sé non è forte abbastanza da potersi permettere deviazioni di sorte. Capiterà troppo spesso di non sapere cosa stia succedendo, cosa stiamo andando a fare, cosa stiamo cercando in 18.724 libri di una biblioteca pubblica e la tentazione di lasciarsi andare a una sbirciatina su una soluzione o addirittura di abbandonare per sempre il gioco è abbastanza forte. Insomma, per quanto possiate essere amanti delle avventure grafiche in prima persona o dei miti e delle atmosfere tipicamente lovecraftiane, non me la sento di consigliarvi questo gioco. E se state aspettando di sentirmi dire in definitiva, sappiate che io questa review neanche la voglio finire, perché ci sono giochi in questo e altri mondi che non vale la pena discutere e non oso risvegliare gli orrori riprovati durante la stesura di questa recensione, da allora miei quotidiani compagni di viaggio. La cosa divertente è che il gioco ha davvero il finale lovecraft, finisce davvero così, cioè non si sa come tu risolvi l'enigma finale, quello si butta nella luce, non si sa cosa c***o sia successo e vediamo William paralizzato che ti dice Non posso raccontare cosa ho visto, o verrei colto dalla pazzia.